Un contributo in denaro di 500 euro è una restrizione dei contratti di affitto interessati, limitandosi unicamente solo a quelli stipulati a canone concordato. Sono queste le maggiori novità introdotte dalla nuova fase di operatività dell'Agenzia Sociale per la locazione nel Comune di Bra, presentata venerdì scorso in municipio. L'attività dell'Agenzia, che si inserisce nell'ambito delle attività previste dal progetto regionale Casa 10.000 alloggi entro il 2012, ha lo scopo di favorire l'incontro tra domande e offerta sul mercato della locazione per le persone che si trovino in momentane situazioni di difficoltà economica, pur non rientrando nei parametri di coloro che possono accedere alle case popolari. È un progetto che non si rivolge a coloro che non percepiscono reddito, ha detto l'assessore alle politiche e sociali Giovanni Fogliato, evidenziando come l'operazione nasca con l'intento di creare duraturi rapporti di locazione a beneficio di coloro che temporaneamente si trovino in una situazione difficile, ma riescano comunque ad assicurare continuità al contratto. Per i proprietari triplici le opportunità, aliquota imo agevolata se utilizzano il sistema degli affitti concordati, contributo di 500 euro una tantum, una polizza fideiussoria che può arrivare a coprire un massimo di sei mesi di affitto nell'ambito di un triennio, polizza quest'ultima rilasciata dalla Banca di Credito Cooperativo di Carasco che affianca l'amministrazione comunale in questa operazione. Preceduto dal ricordo del decennale dal conferimento della cittadinanza onoraria a Chiara Lubic, si riunirà le 18 di domani, 19 giugno, il Consiglio Comunale di Bra. Tra gli argomenti che l'Assemblea presieduta da Fabio Bailo dibatterà, tre emozioni che riguarderanno la posizione dei comuni italiani a proposito di IMU e del rispetto delle regole del patto di stabilità interno, così come dei recenti tagli al sistema ferroviario locale piemontese. Il Consiglio esaminerà poi le proposte di modifica di alcuni regolamenti comunali, da quello di Gene, per quanto riguarda nello specifico la raccolta dei rifiuti, a quello di autotutela degli operatori della Polizia Locale, sino ad adeguare alle nuove norme il regolamento comunale sugli acquisti. L'Assemblea avrà modo poi di discutere sulla distribuzione delle aree mercatali in città e della vendita di un terreno in via Molineri. La seduta sarà trasmessa in diretta web sul sito comune.bra.cn.it e riproposta nei giorni successivi indifferita al medesimo indirizzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.